Iniziamo questo nostro periodico Il nostro appuntamento qui a Bologna è ovviamente la parte più sexy dell'intero incontro perché stiamo parlando di storie di vita vissuta, quindi sono le parti di solito che sono più ghiotte per chi ci ascolta da fuori. Si tratta di un appuntamento che vuole ovviamente venire in conto a quelle che sono le esigenze di realtà, di trading vero, che ognuno di noi ha anche di dubbio nei confronti del trading. La domanda è per chi veramente viene da fuori dicendo ma si può guadagnare? La seconda domanda è ma lo posso fare anch'io? La terza domanda è ovviamente come lo posso fare? Voi sapete benissimo che il gioco è molto più difficile di come ve lo sto vendendo io, nel senso che fare trading è un mestiere di impresa, è come aprire un bar o una discoteca o un qualsiasi salone di bellezza. E quindi oltre alle nozioni di tipo tecnico c'è anche un aspetto di tipo imprenditoriale, cioè uno deve avere il physique du rôle. Allora noi in questo nostro incontro, in queste nostre chiacchiere andremo a focalizzarci su questi aspetti. Allora ovviamente la prima domanda è di presentarsi alla vittima, di solito la vittima viene qua, si siede e poi si presenta, quindi nome, cognome, codice fiscale. Allora mi chiamo Massimo D'Antonio, sono dell'Aquila, codice fiscale pure voi? 44 anni, ho iniziato con il trading circa 4 anni fa studiando qualcosina in maniera molto 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 discrezionale fino a quando poi carta e penna, piani, piani, carta e penna, carta e penna, carta e penna. Mi sono domandato possibile che al giorno d'oggi non esiste qualcosina per poter fare in automatico tutte queste cose e cercando su internet ho incontrato diverse realtà, mi sono affezionato ad algoritmi che Andrè, Angiolini, Placci, Emilio e compagnia. Ma tu come formazione, che formazione hai? Di che tipo di formazione hai? Che intendi? Sei un matematico, un informatico, un poeta, un bardo, un cantautore? Mi sarebbe piaciuto essere un poeta però non... ho fatto le scuole industriali e mi sono fermato al secondo anno di ingegneria all'università. Quindi tu avevi una competenza informatica? Leggerissima, forse più per passione che per effettivi studi. Ho capito. Però l'informatica mi piace. Infatti stimo moltissimo Andrea, non so dove è andata. E dicevo, vado avanti magari e avvito tutte le domande, circa due anni fa ho iniziato con il trading sistematico, con algoritmi, ho studiato per due anni e continuo a studiare. Ultimamente mi sono anche interessato un pochettino di opzioni e devo dire che sono una cosa eccezionale. Il trading in reale l'ho iniziato circa un anno e mezzo fa, risultati ve lo dico zero, non dico bugie. Ma sei stato fortunato perché potevi anche perdere, no? Guarda Emilio, io ho avuto un periodo di circa 6-7 mesi di lateralità assoluta, poi ho avuto un periodo stupendo, il mio conto è cresciuto di oltre il 30% e poi è tornato da dove è partito. Ma i mercati che tradavi? Fondamentalmente commodities e futures, sugli indici. Sugli indici? Sì. Intraday o daily? Ambe due. Ambe due. Ambe due. E come broker avevi? Interactive. Interactive. Sono tornato diciamo al punto di partenza, mi sono fatto un altro po' di lateralità e adesso sto ricrescendo come account. Devo dire che la cosa non mi fa piacere e credo che, non lo so forse magari ripeto, ma credo che gli studi che stanno facendo in algoritmica per staccare, attaccare, capire come, quando, dove e in che modo fare il portafoglio siano la chiave per avere un portafoglio che abbia un'equity un po' più lineare, altrimenti si sta un po' sulle montagne russe e a me non piace. Forse questo è uno degli argomenti e una delle cose per cui mi piacciono, mi stanno piacendo tanto le opzioni perché sono molto più lineari e tranquilli. Ma quindi tu tradi anche le opzioni adesso? Ho iniziato da pochissimo, circa 3-4 mesi, 5 mesi, però... Ma hai fatto il workshop con Francesco? Anche. Quindi la strategia è quella? Sì, sto studiando, sto applicando quella strategia, ne sto applicando anche delle altre, ho letto vari libri, fra cui quelli di Domenico, mi piacciono molto perché non c'è il dover per forza indovinare che cosa si fa, che cosa non si fa, si sale, si scende. Sulle strategie di tipo income, quelle che guadagnano al passaggio del tempo, metti lì, stai tranquillo che alla fine della settimana in genere la pagnotella c'è. Ma questa tua operatività sulle opzioni, quindi la fai con Interactive in base a quante strategie? Una, due, tre? Diciamo fondamentalmente tre strategie, al momento non c'ho soltanto quelle, e comunque con Interactive. Ho capito. E sono strategie sul mercato americano, quindi sulle opzioni americane? Sì, in questo momento sì, gli indici, qualche cosa sulle commodity. E per quanto riguarda invece i trading system sulle commodities, se ci puoi così accennare, senza svelare i segreti, di che tipo di metodologie siano, se sono contro trend, breakout? No, allora, primordialmente quelli sulle commodities sono tutti trading system a breakout, quindi utilizzo alcuni sistemi sull'oro, sul benzina, sul crude oil, e tendenzialmente sono tutti a breakout. Quelli invece sugli indici, quindi SP500 e similari, generalmente sono, no contro trend, scusi, miraverting. Miraverting, ho capito. E sono sistemi di tua produzione? Qualcuno sì, e qualcuno invece di produzione di quelli che stavano qua prima. Algoritmica, ho capito. E qual è la logica che tu hai scelto per fare il portafoglio? Allora, ne ho mischiati un po' e un po', anche se di fondo preferisco le logiche di breakout. Personalmente, perché prendi qualche stop in più, però, tecnicamente, quando il sistema va, ti dà i suoi profitti. Il miraverting ti dà profitti più di continuo, però, quando poi vai a stop, prendi stop pesanti. E soprattutto, quando i mercati, perché i miraverting si utilizzano di più sui mercati, tipo gli indici azionari, eccetera, eccetera, quando questi mercati cominciano a dire di no, diventa subito, ma subito, pesante la situazione sul portafoglio. Bei di febbraio. Ci stanno sistemi che sono andati benissimo e a febbraio un disastro. In pochissimi giorni. Ti faccio una domanda intima. Come mai hai escluso le azioni dalla panoplia degli strumenti? Emilio, non ho escluso le azioni, però penso che per formarsi in questo mestiere ci vuole molto, molto, molto tempo e bisogna fare le cose piano piano, una alla volta. Io ho iniziato con i futures, venivo dal mondo del forex, perché penso che tutti quanti... Primo spinello l'hai fatto nel forex. Ti sei reso conto che non funziona. Esatto. Sono passato ai futures. Peccato di gioventù, eh. Sono passato ai futures, adesso mi sto interessando moltissimo di opzioni e credo che in un futuro metterò mano anche le azioni. Adesso la prima cosa che vorrei, mi piacerebbe fare, è finire il discorso del portafoglio, ma anche introducendo quello che stanno studiando in algoritmi, perché altrimenti si sta troppo sulle montagne russe e a me non piace. Mi piacerebbe ampliare un pochettino il discorso delle opzioni e poi passare ad altro, ma non mischiare troppe cose, perché come diceva Andrea ci vuole tempo, veramente tanto. Adesso ti faccio, ovviamente abbiamo avuto modo di discutere una cena di chi sai cosa fai, quindi so già la risposta, ma ovviamente non la sa il pubblico. Com'è che mischi il tuo lavoro con, cioè qual è la relazione lavoro, lavoro quello ufficiale, quello che c'è scritto sulla carta di inventità? Allora, il lavoro ufficiale sicuramente non si può abbandonare, non si può abbandonare e quindi nei ritagli di tempo, sabato, domenica, la notte, quello è fondamentalmente il tempo che dedico al trading, più di tanto io non ne ho. Il sogno di lasciare tutto, fare tutto con il trading, abbandonare il proprio lavoro è qualcosa che secondo me va pesato molto, molto con calma, quindi per il momento è il ritaglio di tempo. Il miglior trading system che hai? Se ci spieghi la logica? O quello a cui sei più affezionato di tua produzione? Allora, io di mia produzione ho un sistema su, forse che mi piace un po' più di tutti, ce l'ho sull'Eurostox 50, ed è un sistema di tipo reverting, su barre daily, è lento, è tranquillo, ma abbastanza dritto, e questa è la cosa che mi fa piacere. Mi piacciono o i sistemi molto veloci, che entrano e escono nell'arco della stessa giornata, al massimo stanno due giorni, comunque fanno tanti trade, oppure mi piacciono quelli particolarmente lenti, ma non lenti nel numero di trade, lenti nel senso che stanno tanti giorni a mercato e portano a casa la pagnotta in maniera molto più lunga. Però questo chiaramente, almeno per il mio portafoglio, lo posso fare su sottostandi che si muovono molto tranquillamente, l'Eurostox è uno di quelli. Ci sono domande? Facili, se no non rispondo. Va bene, ti facciamo un applauso, un bocca al lupo. Grazie. Eccomi qua. Allora, sono Mauro. No, no, sono io che faccio le domande qua. Presentazione Mauro Bergamo, 44A. Allora, quando l'abbiamo incontrato la volta scorsa, l'abbiamo intervistato, era di un colore pallido, mortuale, invece oggi è abbronzatissimo, quindi ti è andata bene, no? Sì, no, sono reduce da una settimana di vacanza. Ah, ho capito. No, pensavo che tu fossi già ai Caraibi con il treno. No, 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 però è stato un anno, diciamo, basta, ma io, guarda, come dicevo l'altra volta, sono intorno al mio 20% annuo sulle azioni italiane discrezionali, sostanzialmente riesco a farmelo solo long e di conseguenza è un buon risultato, operazioni molto lunghe, io faccio altro, ho una società, quindi come... No, no, questo mi ha chiesto di premetterlo, cioè lui è una persona seria, cioè è qui perché l'abbiamo chiesto noi, ha un lavoro serio, insomma, non sei come noi, ecco. Certo, come tutti ci mancherebbe altro. E sono come il mio predecessore, anche io purtroppo non ho, appunto, altro da fare, quindi mi devo ritagliare un po' il tempo per il trading. Ma la volta scorsa ti avevo intervistato e diciamo che eravamo in una situazione in cui i lavori stavano partendo, no? Passato un anno... Passato un anno sono arrivato al punto, ho rifatto il corso che sta per finire di Power Language, mi è servito molto rifarlo, perché una volta che tu ti iscrivi ovviamente puoi rifarlo tutte le volte che vuoi, quindi lo rifarò, adesso parte il diventare... È una garanzia per l'eternità. Sicuramente, è un aggiornamento continuo che mi sta bene e ho fatto un grosso passo in avanti, nel senso che penso che ho scritto qualche sistema basico, veramente basato sull'RSI, che non produce utili, però quantomeno ho imparato a scriverlo, devo affinarlo, devo provarlo su vari strumenti, trovare gli strumenti giusti, molto volatili, che ti consentono di poter operare e ritengo di aver fatto un grosso passo in avanti. Ma la dotazione tecnologica è sempre Multicharts? Sì, sempre ho preso la licenza definitiva con Multicharts, l'ho acquistata, broker uso... Ah, è vero che me l'hanno detto, c'è uno di Bergamo che ci ha comprato la licenza, ti brindavo, sai, uno di Bergamo. Eccomi qua. Non è facile che uno di Bergamo compri una licenza di sostanza. Sì, sono dei pochi. Ecco, il bacino corto. E quindi niente, adesso mi trovo bene, l'ho usato anche per fare degli scanner su titoli italiani, per esempio, quindi pian pianino, sto imparando ad usarlo bene. Ho iniziato ad avere un portafoglio di sistemi da fine febbraio, inizio marzo, con algoritmi che ho comprati, perché io ancora non sono... sto arrivando, ma ancora non ho i miei sistemi. Sono otto sistemi che operano su Oro, ovviamente il VIX, che è un ottimo strumento, petrolio e così. Ma tu hai detto lo scan sulle azioni, lo scan sulle azioni ci puoi dire che... Ma niente, semplicemente cercavo di vedere quelli che sono un pattern che a te piace molto, dei massimi assoluti. Ecco, cercavo di individuare, per esempio, le azioni che distano, quindi cercando di scrivere un indicatore che mi dice quando un'azione dista, per esempio, il 10% dai massimi assoluti, me lo segnala, poi io vado ad esaminare che azione è, di cosa si tratta e così. Non ci sono ancora arrivato, però ho fatto grossi passi in avanti, mi manca... perché proprio bisogna... io lo scrivo io, l'indicatore, anzi la funzione indicatore, che mi dice quando manca il 10% dei massimi assoluti, quindi ancora non ci sono arrivato, però l'ho praticamente scritta, insomma, questo è uno. Pure RSI, come dicevo prima, perché mi piace, non so, i indicatori che uso, l'RSI, quando è oltre certe soglie, 80 soprattutto, io metto quindi abbastanza tirato, anche 85, dipende dagli strumenti. Insomma, sto cercando di utilizzare lo scanner, di capire come mi può dare una mano. Ho capito. Ma l'operatività quindi sui futures è iniziata da poco? No, io ho iniziato a operare in borsa negli anni 2000, solo discrezionale, fino al 2006-2007 in cui usavo dei sistemi di Lombard Report e facevo futures, sul FIB soprattutto, anche adesso, giusto l'altro giorno, ho fatto un'operazione sul mini FIB, due mini FIB, chiusa a più dieci punti, quindi come sono in pareggio sostanzialmente, quindi qualcosa faccio sempre, sul grafico a cinque minuti, ho cercato, è stato il giorno prima che ho fatto più uno o più due la borsa, qualche giorno fa, che poi sono partito, quindi non ho più fatto niente, quindi qualcosa, insomma, faccio sempre. Senti tu che hai un lavoro serio, anzi serissimo, come va d'accordo questa tua nuova impresa del trading con il tuo lavoro? Ma, io ho una società immobiliare, diciamo, ho della liquidità, anche con una certa dimensione, quindi ho spesse volte della liquidità da impiegare, non si tratta di, cioè, diciamo, è un passo indietro ancora, devo allocare il capitale affinché mi renda il più possibile con minori rischi possibili. Secondo me, per esempio, la via del trading system può essere un ottimo investimento da affiancare, per esempio, a un'attività immobiliare, poi, ovviamente, io parlo per la mia situazione, ognuno ha la sua strada, io parlo per me, quindi, secondo me, è un ottimo modo di allocare il capitale con, soprattutto, bassi rischi, perché si possono ottenere dei guadagni in borsa facilmente stellari, ma altrettanto facilmente si può rischiare di perdere. Nell'immobiliare questo? No, nell'immobiliare, ma a livello dell'immobiliare, vabbè, sono entrando un pochino, faccio, gestisco immobili propri, di conseguenza, se tu dai un immobili in affitto, un immobili di qualità, insomma, se hai abbastanza, il ritorno, non puoi attenderti, chissà che ritorni, perché i canoni di mercato sono quelli, e non è possibile che da un anno all'altro possa raddoppiare canoni, al massimo, ti vengono a chiedere di durlo, ma non certo può aumentare, di conseguenza, il guadagno è molto regolare, ma molto stabile, se hai immobili di qualità, non hai casi di... vabbè, ma qua si parla di immobiliare. Vabbè. Ok, senti, le opzioni? Opzioni, ho frequentato il corso di Francesco qualche mese fa, ma non le sto assolutamente ancora approcciando, perché mi sto concentrando sui sistemi, voglio prima, diciamo, arrivare al dunque, arrivare a riuscire a creare il mio sistema basico, anche per soddisfazione personale, sto spendendo tempo, soldi, per riuscire ad arrivare a quel punto e quindi voglio arrivare a quel punto. So di tutte le potenzialità di evoluzione, le conosco, tanti miei amici trader, le usano da anni, che conosci bene, quindi so benissimo le potenzialità, però mi richiede, diciamo, ulteriore sforzo, che in questo momento non voglio... Comunque Emilio, Mauro sta facendo il percorso bene, secondo me, perché si sta applicando. Ah, studia, io pensavo che non... Sì. Conoscendolo che... No, non solo, ha iniziato a riavviare il server per conto suo, insomma, tutta una serie di passaggi in autonomia che... Se devi arrivare, come ho detto, io voglio arrivare all'obiettivo, di conseguenza, è chiaro, pian pianino, sbagliando, facendo mille errori, ma insomma, pian pianino, prima o poi, se non si è stupidi, si arriva, ci mancherebbe altro. Va bene, ci sono domande? Facciamo un applauso e ci diamo appuntamento l'anno prossimo, perché se c'è una moria così di persone che non si vuole fare intervistare... Io sono sempre a disposizione. In sala ce ne sono almeno sette o otto, ma hanno molta paura di te, secondo me. saio, notoriamente, sono cattivissimo. Cattivissimo, grazie. Va bene, grazie, grazie mille. Grazie mille.